L'andatura stava un po' rallentando, allora mi sono messo davanti e ho iniziato ad aumentare l'andatura e in niente, questa tattica ha pagato e sono arrivato terzo, sono contentissimo. Ho condotto una gara molto intelligente, all'inizio sono partito col gruppo, poi quando ho visto che l'andatura andava a rallentarsi, mi sono messo davanti e ho iniziato a tirare e questa tattica ha pagato e sono arrivato terzo, conquistando questo bronzo che è inaspettato quasi. Tu e Kripp l'anno scorso eravate tra gli under, com'è questo confronto con i grandi? È tutta un'altra cosa, tutta un'altra atletica, però ci siamo entrati nel modo giusto e se continuiamo così possiamo fare grandi cose, io e Ieman. 13 anni fa ormai, quando avevo 7 anni sono venuto in Italia e prima appunto vivevo in Etiopia e poi sono stato adottato dai miei genitori attuali che sono di Siena e vivo a Siena da ormai 13 anni e sono senese a tutti gli effetti. Un saluto a Fanpage, siete una bella pagina, vi seguo e grazie a voi. Anche noi seguiamo te. Bene, grazie. Tu vai più veloce però. Grazie.